Ed eccomi qua, belli miei ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Vapor, sono il Vapor contadino preferito Sto un po' meglio, sta migliorando la situazione, mi vedete un po' col naso un po' sfregiato, ci può stare Causa fazzolettini che purtroppo in questi giorni mi stanno accompagnando con molto molto amore, se si può definire così Nonostante questo siamo belli on point, sono qui per andare a fare un video speciale, non voglio andare nel dettaglio ma l'avete già capito dal titolo Andiamo a parlare di come andare a rimuovere tutte le tipologie di ostacoli, quindi anche come andare ad ottenere gli attrezzi per farlo Insomma una marea di cose nuove, mi raccomando like, iscrizione, attivate la campanella perché se non lo fate lo sapete benissimo che la vostra fattoria non sale di livello Quindi fatelo, vi aspetto sul canale tutti i giorni all'ora e quattordici, vi lascio qua sotto i link e eventualmente anche per abbonarvi con Amazon Prime sul canale Viola, su Twitch Attraverso un abbonamento gratuito, avete la mia amicizia all'interno dei vari giochi Supercell, quindi fatelo Insomma tutti i link curiosi, ve li lascio qua sotto in descrizione, daie 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 Allora però adesso la situazione inizia ad essere bella 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 potente perché qua c'ho una barchetta da andare a consegnare mi han detto Quindi andiamo un attimo a consegnare le barchette prima che ci rubino le robette Quindi andiamo subito a consegnare la barchettigna perché qua c'ho anche i gambaletti da andare a riscuotere e andiamo subito a chiudere la nostra barchettina Molto molto bene, adesso dobbiamo soltanto finire questa qua che abbiamo chiesto aiuto Quindi adesso andiamo prima a spelacchiare un po' le nostre coltivazioni Andando a spelacchiare le nostre coltivazioni andiamo a mettere in vendita un po' di zucchette Un po' di robette curiose perché secondo me le cose curiose lo sapete che piacciono una marea Andiamo a riscuotere i nostri cespuglietti qua in modo tale che finiamo la missioncina del pass Vedete obiettivo del pass completato Non vi ho fatto ancora un video riguardo ad un pass opening che avevo in mente di farvi Nonostante questo dato che siete all'interno di un video speciale perché non farlo? Lo possiamo fare tranquillamente Ci andiamo a pigliare 5 assi d'acquisto 2 mazzoletti 7800 di roba E questo qua mi sa ragazzi che ve la recco in un altro video l'unboxing di questa ricompensa speciale Quindi ci becchiamo nei prossimi giorni mi raccomando entrate 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 Allora qua dentro ci mettiamo le carotine ci mettiamo un po' di grano turco Ci mettiamo altro grano turco così poi me lo prendo verso fine ai video Ci mettiamo il granero ci mettiamo un po' di queste robette qua e siamo a posto Allora 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 qua andiamo a riscuotere 421 monete che erano rimaste lì un attimo Stavano un attimo riflettendo sul da farsi Qua manca veramente poco per la fine della barca Dobbiamo assolutamente finirla Andiamo nella zona di pesca in modo tale che se ci sono novità possiamo andarla a prendere C'è un'escolina che possiamo andare a fare Quindi perché? Perché privarci di questa cosa? Andiamo subito a fare una bella pescata Guardiamo cosa tiriamo fuori non tiriamo fuori assolutamente niente perché qua abbiamo un pesce che Si ostina a non uscire ok perfetto si deve caricare quindi abbiamo pigliato le esche Ne mettiamo altre andiamo a prenderci la rettina di qua ne mettiamo subito un'altra e stiamo belli 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 On point on point vi ricordo che perché voglio finire la barca perché qua abbiamo anche una signora missione del derby Prima che i miei compagni del clan mi insultino è meglio farla Vi ricordo che stiamo andando avanti col derby Siamo esattamente a 3800 secondi Un po' di distacco dai primi ce l'abbiamo I primi sembrano essere abbastanza assatanati Noi stiamo tenendo testa come secondi Sinceramente a me va pure bene Se entrate nel clan e mi date un supporto Tanta tanta roba Nei prossimi derby mi raccomando entrateci Perché se no diventa poi difficoltosa fare il tutto Andiamo subito a scartare tutte le missioni quelle balorderrime E via così via 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 di qua Scarta di qua scarta di su Vabbè se c'è qualcuno che le può fare molto bene Però non penso che ci sia qualcuno che ha intenzione di fare queste missioni alquanto alquanto noiose Perfetto proviamo a scartare e vediamo un po' cosa viene fuori dal nostro clan Mentre che ci siamo pubblicizziamo i nomi di zucchine qua e mettiamo questi qua in vendita Stiamo a posto ma il video di oggi era su come rimuovere questi cosetti qua Innanzitutto ci sono dei materiali che voi potete ottenere nel granaio In questo caso ci sono vi lo faccio vedere abbiamo i materiali che sono più comuni sono le asce Ok asce pale oppure dinamiti ci sono tutti determinati ostacoli che possono variare da tipologia a tipologia Le dinamiti come si ottengono sono tutti degli ostacoli che si possono ottenere O con questo ticket rosa del quale vi andrò a fare un video perché secondo me questo ticket rosa è tanta tanta roba Molti di voi non lo sanno ma ne vale assolutamente la pena quindi vi da l'opportunità di sbloccare queste ricompense extra Oppure andando a seminare ogni tanto quando andate a togliere il grano da queste robette qua Facciamo un po' di così togliete ogni tanto vi esce magari quella dinamita lì a caso Che vi da l'opportunità di andare a fare come faccio in questo momento di andare a rimuovere gli ostacoli Vedete come si rimuove gli ostacoli? Basta andare sulla pianta in questione Piliarsi l'ascia quindi schiacciamo l'ascia e tac e vai giù Quindi come si ottengono gli oggetti per rimuovere gli ostacoli? In realtà non è così complicato come pensate Semplicemente si ottengono giocando Oppure 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 c'è un metodo molto interessante che è quello di Greg Infatti guardate qua se noi andiamo da Greg tutti i giorni lui ci vende qualche oggettino così un po' misterioso Nel quale c'ha ogni tanto degli oggetti che ti permettono di rimuovere gli ostacoli Quindi se avete delle difficoltà non sapete come si faccia E ogni tanto vi capita che non siete in grado di andare a trovare degli oggetti per rimuovere gli ostacoli Bene, ricordatevi che c'è sempre il Greg che salva ogni tanto la situazione Quindi tanta tanta roba per il nostro Greg Il nostro Greg ogni tanto ci dà queste soddisfazioni molto molto mistiche Mentre che ci siamo possiamo anche poi eventualmente andare a fare un upgrade E andarci a pigliare un bel punto di pescolina Perché ho visto che qua i punti di pesca sono molto molto particolari Quindi probabilmente andrò a fare un video sulla pesca In modo tale che tutti abbiate un'infarinatura generale sulla pesca Dove andrò anche a prendermi questo nuovo appezzamento di terreno Ragazzi abbiamo un problema perché qua volevo finire la barca dentro questo video Ma sembra che la gente non voglia aiutarci Quindi siamo in una situazione un po' di complicazione E quindi niente da fare Dobbiamo aspettare, dobbiamo aspettare Nonostante questo però Cosa si può andare ancora a fare? Si possono andare a rimuovere altri ostacoli Perché molti di voi non lo sanno Ma anche i cespugli sono degli ostacoli Bene, questi qua non si possono andare a rimuovere Prima che mi chiediate Vapor con me Che non si possono rimuovere Perché sono ancora attivi Vedete che stanno ancora producendo Quindi quando avete degli, tra virgolette, degli ostacoli che sono ancora attivi Mi raccomando, vedete qua Abbiamo ottenuto appena adesso una sega Nel mentre che siamo andati a cespugliare Quindi un consiglio che vi do è andare a farmare tanto grano E via così State molto, 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 molto tranquilli Andiamo per sicurezza Tanto per ridere Ci possiamo andare a togliere con una sega questo albo qua Intanto l'abbiamo appena trovata adesso la sega Non è che succede niente E poi guardiamo se abbiamo un'accettina Niente, niente Questo tanto con le sega Vabbè Ne abbiamo tolto un altro Comunque avete visto quali sono le tipologie E le metodologie per ottenerne di più Quindi non vi stupite Nei prossimi giorni Se mi vedete attuare queste cose in live Vi ricordo che oggi pomeriggio probabilmente starò in live Dato che È da un po' di giorni che non vado in live Quindi ci becchiamo eventualmente oggi pomeriggio in live Mi raccomando Passateci Perché se no io mi offendus Mi offendus E questa cosa non va assolutamente bene Mannaggina, mannaggetta Non sono riuscito a finire la barchetta Vabbè, vabbè, vabbè Avete visto qual è la metodologia per ottenere più Oggetti per rimuovere ostacoli di possibile Vi ripeto in fondo video Per quelli che sono venuti fino al fondo Ticket rosa Andate assolutamente a coltivare infinite colture Prima o poi ve ne esce qualcuna altra Abbiate pazienza Oppure scroccatele da qualche vostro amico Che sapete che ci sono gli amici quelli Un po' scalmanati Che ci hanno Ci hanno Ci hanno un po' i giri Ci hanno E quindi questi sono i consigli principali Che vi do Noi ci vediamo domani alle 14 Con un nuovo video Vi ripeto Oggi pomeriggio in live Mi raccomando oggi Una live bella 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 di ritorno Quindi vi aspetto in tanti Ciao belli E mua